Tra poco in onda, svalvolati on air, con DJ Darje, Nello e Tiro. E svalvolati on air. E pompa sta musica. POM! Svalvolati on air. È stato bellissimo. È stato bellissimo. Svalvolati on air. 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 No, live on the air. E' il comandante che vi parla. Siamo pronti per il decollo. Inizia! Ora! Svalvolati on air! Con DJ Darje, Nello e Siro. All right, you're free to go, so keep calm and party on! Svalvolati on air! Svalvolati on air! Buonasera anche dal nostro Siro, ciao! Potrò salutare da solo, ho bisogno della taglia per tutto. Allora fai una cosa... Buonasera a tutti da parte del vostro Siro. Salutati! Ciao! Siro, tu hai sempre questa chiomazza che diciamo è sempre più impervia, sempre più indomabile. Lo so, lo so, impervia e indomabile la letti stamattina. Soprattutto indomabile la letti stamattina sul dizionario. Ma anche impervia secondo me. Allo zanicotto che... Ho detto il mio obiettivo? Eh, qual è? Averli lunghi lunghi. Ma quanto lunghi? Eh, fai... Quanto basta? Fino a qua. Quanto basta per fare... Fino a qua. Fino a qua. Sironi siamo in radio. Un attimo! Fino a qua. Abbastanza per fare l'ananas, raccoglierli e fare... Ah, coltivi! Sì, coltivo. Coltivo. Eh no, scusa, hai detto che fai l'ananas. Vabbè, comunque... Hai presente l'acconciatura di... Cioè del supremo Zlatan Ibrahimovic? Il supremo addirittura. Sommo, oserei dire. Il sommo. Il sommo, il sommo. Vabbè, così. Comunque, inizia un'altra puntata di Svalvolati On Air questa sera. Vi terremo compagnia, come sempre, con le nostre notizie, con le nostre scenette, con tutto ciò che riguarda l'universo svalvolato. Questo è quello che dice lui. Poi è tutto da vedere. È tutto da vedere. Allora, ragazzi, dobbiamo ancora riprenderci perché, per chi non avesse seguito la puntata di settimana scorsa, cosa che vi invitiamo a fare andando sul nostro canale di YouTube, digitando Svalvolati On Air, settimana scorsa abbiamo avuto qualche difficoltà. Dei problemi con Pinocchio, però... Ecco, abbiamo avuto... Me l'ero dimenticato adesso. Abbiamo avuto delle difficoltà abbastanza consistenti. Questa settimana abbiamo una nuova fiaba da far scegliere di genere. No, no. Andiamo avanti così che scopriremo dove possiamo arrivare, dove arriva il limite umano, se devi dire. Comunque, per mettervi in contatto con noi è molto semplice. Venite su Facebook cliccando Svalvolati On Air, metteteci un bel mi piace, commentate tutto quello che facciamo, diteci quello che pensate di noi e insultate Stefano Sironi. Esattamente. E soprattutto l'ultima. Insultati di Gidani. Vabbè, comunque, questa sera, Anto, è una, diciamo, serata particolare perché ricomincia... Ricomincia il nostro bellissimo concorso del disco eletto. Che cos'è il disco eletto? È quello che siete voi a scegliere, cari ascoltatori del mondo terratio. Quindi, come funziona? Ci sentirete in queste settimane il disco Pogo, il disco Yeah, il disco Ghetto. E sarete voi, molto semplicemente, mettendo una bella votazione sulla domanda che metteremo sulla nostra pagina Facebook. Il gioco è fatto. Alla quarta settimana sentirete il disco più votato. Sì, sì, stavolta non fa ridere come un po' della volta scorsa. Ma che cosa non fa ridere? Io vorrei anche ricordare che sono a due, mentre voi siete a uno. Esattamente. Ma, Sironi, guarda, mi sa che questa volta vinci tu, perché il tuo è il meno peggio, presumo, tra i tre. È il più ignorante. È quello che abbiamo deciso la volta scorsa. Oltre, guarda, è imbarazzante. Attenzione. È arrivata l'ignoranza fatta a persona. Comunque, dicevamo, è quello... Sì, è quello che cosa? No, e se lo faccio si capisce al volo. Ah, e perciò non si può dire. Vabbè, comunque è una chicca abbastanza ignorante. Ok, ma attenzione perché... Che cosa c'ha? Cosa c'ha in testa? È arrivato il nostro Dottor No. Buonasera a lei, Dottor No, carissimo. La sua ignoranza, buonasera. Buonasera. Ma come mai lei è arrivato così presto in questa serata? Ha fatto una sveltina. No, ma non si dice. Eh sì. Ma perché? Comunque, possiamo, diciamo, dire che il Dottor No è entrato con un cappello fluorescente viola. È blu, dai. È blu fluorescente. Ma hai problemi con lei dal tonico, veramente. No, ragazzi. Blu puffo. Sarà il vetro. Capito? È il vetro che fa sì che i colori si... Avete notato anche la maglietta di Dottor No? Allora, ragazzi, grande. Mamma mia. Eh, una maglietta, descrivimela un attimo, ste. Com'è che potresti, diciamo... Eh, non è facile, eh. È una maglietta universitaria. Universitaria. Sì, sì. Perché è gli universitari che maglietta hanno. Sì, ma è solo così. Hanno questa alba celeste con dei triangoli... È una ripresa da un aereo, credo. Esatto, più o meno, con dei disegni strani. Non lo sa neanche lui. Poi vedremo una bellissima foto. Intanto io volevo salutare Nico, il nostro latrina americano. Che cosa saluti, non ci interessa. È una latrina americana, noi saluti. Guarda via, giuro. Ma non ci interessa. Tutto per te, tutto per te. Comunque, dottore, questa maglietta posso dirle che fa moda? Ups, non lo dovevo dire. Siro, Siro, non lo dovevo dire. Non commento. Stasera, se si mettono uno di fianco all'altro, uno con la felpa e l'altro con la maglietta, mi sa che... Ma tra l'altro che casino ha fatto la stampante? Potrebbero riuscire insieme. Vabbè, comunque noi, Antonello... Vabbè, facciamo finta di niente. Come sai, partiamo sempre con il nostro primo disco. Un disco cattiveria, subito per iniziare. Un disco schiaffi. Ecco, è un disco schiaffi, ma sono schiaffi eleganti. Senti già. È uno schiaffo pettinato. Questa è classe. Questa è classe, ragazzi. Ma dove volete andare? E qui dovete avere l'occhiale da sole anche se è sera, se sentite questa canzone. Per forza. E qui dovete avere l'occhiale da sole anche se è stato, se sentite questa canzone. alla prossima E' pop questa musica PUM! PUM! in PUM! PUM! Svalvolati on air. Cidro. Svalvolati on air. Svalvolati on air. Let's get ready to rumble. Ci sono gli svalvolati, con di cedarci gli svalvolati, con di cedargli svalvolati. Gli svalvolati on air. On air. On air. Ci sono gli svalvolati, con di cedarcli gli svalvolati. Con di cedargli svalvolati. Svalvolati on air Svalvolati on air Bentornati con gli Svalvolati on air Come sentite? Abbiamo già preso questo ritmo dinamico Veloce